Ciao ragazzi, oggi sto sul canale di Chiara e oggi farò uno schesso guarda, io ho detto che gioca a pallone resta di poca, però faccio finta che in realtà voglio fare uno schesso cioè, uno schesso intanto che mi fa male la pancia Chiara, Chiara, mi fa male la pancia mi fa male la pancia così tanto dobbiamo fare la cacca che c'entra la cacca, mi fa male buona notte il film è vero ora, ti ho finta finta che finta che la colonna non nasconderò cosa stai facendo? niente, sto bloccando ok perché la mia colonna? no, niente, volevo farla mostrare quanto era bella è bellissima ragazzi si è cascato adesso c'entra che gli posso farvi tanto i braccioletti? si, posso che c'è di là ok che cacca addio è sempre la solita distatta ciao buona notte guarda notte guarda notte non c'è finita che che le ho rotte le ho rotte le ho rotte non c'è finito non c'è finito mai vedo qui chiara chiara è caduta è caduta con l'anna giù ma che scello veramente è caduta dall'altra bagno ciao ti aspetta ciao dimmi è una sabata e non ha paura di sapere E sta nell'armorietto, ciò qua. Scusa, la fa, non ti bravo. Abbiamo ingannato la nostra Chiara. E il bracciante, ecco. Me la pagherai questa. La vendetta sarà al prossimo video. Ciao.